Settete due squadre, dividetevi in due squadre. In realtà non tutto da un posto. Ok, avendo visto la serie tv dovevamo per forza venire. È stata un'esperienza che consiglierei assolutamente perché oltre al divertimento comunque c'è sempre quell'adrenalina. Quindi è veramente stato fatto bene. Sono stati veramente tutti fichi. Ho ripetuto il gioco dell'ombrello. La spiga mi ha detto di prendere il gioco dell'ombrello proprio e sono morto. Quindi mi hanno anche sparato. Ho sudato perché poi tutti stavano intorno a me a pressarmi perché fino alla fine non ci sono riuscito. Non posso spoilerare niente. È basata molto sul divertimento fisico e emozionale. La possiamo chiamare emozionale la cosa. Quindi dobbiamo far sì che le persone non si sentano a loro agio prima di tutto. Quindi buttate in un campo, pensano di andare al ristorante e non ci vanno. Pensano di parcheggiare e non parcheggiano. Pensano di avere la macchina quando hanno finito e non ce l'hanno. Quindi è molto bello. Grazie a tutti.